Il figlio era... aveva fatto un'esercitazione di un'opera, però al confine, per i tempi, lanciava qualche traccia, qualche minuto, e poi dopo sono lanciati. E nel 38 è stata la sentenza. Certo, per dire, c'erano dei segreti. È stata un valore di vento di un'opera. Ma anche perché molti prima di sentirsi ebrei si sentono banalmente italiani. E alla fine l'unica ha detto, no, l'abbiamo già generale di roma, ma l'abbiamo già generale di roma. Non ci sono mai... Ma non ci sono mai... Non ci sono mai... Non ci sono mai... Non ci sono mai...